Figlio di Salvatore e Silvia Tortora, entrambi di origini napoletane, collaborò sin da giovanissima età con la compagnia goliardica Mario Baistrocchi, con propri testi insieme alla sorella Anna. In seguito autrice televisiva, nel 1947 entrò nell'orchestra di Totò Arruta come percussionista, esibendosi nei night club di tutta Italia. Dopo aver conseguito la laurea presso l'Università degli Studi di Genova, lavorò per alcuni spettacoli con Paolo Villaggio, prima di entrare in Rai a 23 anni. In quello stesso periodo facevano il loro ingresso nella radio di Stato Piero Angela e Luigi Marsico, con cui Tortora lavorò in radio a Torino. Oltre a, come direttore del giornale radio, Vittorio Veltroni, tre anni dopo, al Giovane Enzo fu affidato lo spettacolo radiofonico Campanile d'Oro. Il 26 dicembre 1953 Tortora si sposò a Rapallo con Pasqualina Reillo, dalla quale ebbe la figlia Monica. La coppia si separò nel marzo del 1959 e successivamente il loro matrimonio fu dichiarato nullo. Dalla Sacra Rota, la prima apparizione in video risale al 1956, come Valletto di Silvana Pampanini. Primo applauso, di cui divenne poi conduttore. Le sue prime trasmissioni di grande successo, andate in onda a seconda metà degli anni 50, furono telematch e soprattutto Campanile e Sera, in cui era spesso inviato esterno. Insieme a Silvio Noto condusse nel 1957 il programma Voci e Volti della Fortuna. Gara musicale abbinata alla Lotteria di Capodanno che negli anni successivi diventerà un appuntamento fisso con i telespettatori con il nome di Canzonissima. Sul finire degli anni 50 fu anche interprete di fotoromanzi per il periodico femminile Grand Hotel, nel 1957 e nel 1958 presentò il Festival della Canzone di Vibo Valencia, nel 1959 il Festival di Sanremo, nel 1962 fu allontanato dalla Rai per un'imitazione che a Lighiero Noschese fece di Amintore. Fanfani e che secondo Aldo Grasso Tortora non avrebbe impedito andasse in onda, dopo un triennio passato alla televisione svizzera, in cui presentò il programma Terzo Grado, tornò nell'emittente italiana di Stato per condurre in radio il Guambero. Il 19 dicembre 1964, a Fiesole, si unì in matrimonio a Miranda Fantacci, un'insegnante 27enne incontrata tre anni prima a Firenze. Da questa unione nacque Rossilvia, nel 1962, e nel 1969 Gaia, in seguito giornalista e conduttrice del Tglei 7.